Ciao ragazzi, eccoci qua su Formula 1 2013, gara del Nürburgring in Germania, come detto il venerdì piove, quindi piove proprio, 7 giri di gara, ovviamente partiremo con le gomme da bagnato e ovviamente non posso mica usare nient'altro, io spero che la mia vettura sia con il giusto setup, la pista è completamente bagnata, quindi si parte da bagnato, si può anche non fare la sosta, però mi sa che le gomme da intermedie durano tantissimo, mentre quelle da bagnato no, non mi ricordo se c'è obbligatorio di fare la sosta, obbligatorio non è, perché comunque piove, pista da bagnata e si parte col bagnato, prima Alonso, benissimo, i nostri compagni di squadra, sedicesimo come vi ho fatto vedere, e io sono diciottesimo, quindi proviamo subito a, non si vede un cazzo, non si vede, ovviamente quando piove non si vede mai niente, si, non si preoccupare, partiamo, vediamo un po' quello che riusciamo a fare, ovviamente qua la pista è bagnata, perdiamo un sacco di trazione, però io dovrei avere una macchina più performante degli altri sul bagnato, vediamo un po' di non investire nessuno, inizialmente almeno, uuuuh, 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 cazzo, la macchina slitta che è la bellezza, ve lo dico soltanto che è la macchina slitta che io non riesco a stare dritto, peraltro non vedo niente, ci vorrebbe un tergicristallo, se ho votato sulla macchina, il parabrezza, volevo il parabrezza, volevo, oh, oh belli, guarda che casino che c'è, guarda che casino, tutti là sono, settima posizione, abbiamo già perso qualcosina, stacchiamo forte, stacchiamo, approfittiamolo, visto che abbiamo una macchina più carica, loro hanno tenuto la macchina più scarica per fare il tempo, però noi dovremmo comportarci meglio, adesso su bagnato, ovviamente se non faccio qualche cazzata, dovremmo anche riuscire a fare bene, almeno davanti al nostro compagno, per dare un po', cazzo come lunga, niente, allora, troppa, troppa, troppa foga, ricominciamo un attimo la sessione, sì dai, ricomincia, partiamo con più calma, vediamo di non fare qualche subito qualche cappella come al solito, guarda lì come piove, non ci potevano mettere un parabrezza, un tergicristallino, mi fanno tanti gli evoluti, non c'è un sistema per togliere l'acqua dalla visiera, mettiamoci sci avvergli, mettiamoci sci avvergli, ovviamente le partenze non sono le mie porte, non so perché se devo dosare o non devo dosare, dovrei chiedere a quel tale Ale come fa lui, perché lui è, uh, completamente lungo, la macchina non frena, è come se io frenassi e la macchina continuasse per accelerare, ricominciamo perché voglio farla bene quella curva, i tempi, i spazi di frenata sono veramente allungati, sono qualcosa di assurdo, non riesco neanche stare, cioè non riesco neanche a frenare, è veramente una pista difficile, con queste condizioni qua è veramente impossibile gareggiare, io non so perché non si rimanda a lunedì magari, ok, freniamo, 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 non prendiamo il cono, non mi rompete il cazzo, non mi rompete la macchina, eravamo partiti meglio, però non mi frega niente a me di partire bene e poi essere già in mezzo a un campo di grano, dai, 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 massa, levati dei coglioni, massa, ti è piaciuto fare l'assetto da asciutto al venerdì al sabato? E mo paghi, e mo me la paghi, che io al sabato ho fatto un assetto da bagnato e ho fatto un tempo di merda, in qualifica ovviamente, la macchina slitta, vi dico soltanto che la macchina è ingestibile, quindi tutti i salti che facevamo sui cordoli dobbiamo un attimo dimenticarci, perché se no rischiamo veramente di andare in testa coda, come già mi sta capitando solo stare sul centro, cioè sto dal centro e la macchina va dove vuole, va, è veramente impossibile, questa è la curva dove adesso ho un po' di paura, al venerdì al sabato non ho avuto paura a farlo, adesso si, perché comunque è un po' impossibile, backhand è sesto, se n'è andato ovviamente, noi difendiamoci all'interno, a noi ci interessa soltanto prendere qualche punto, quindi la decima posizione, anche perché se facciamo un altro punto, verde, non so se può fare meglio, qui non abbiamo il DRS, no, perché comunque la pista è bagnata, quindi niente DRS, dobbiamo sfruttare un po' il cast, frena, 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 che già qui non ci arriviamo col dritto, lunghi, frena, 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 che qui è una cosa difficilissima adesso, è come se guidassi con una macchina solo sui cerchioni, senza gomme, quindi senza aderenza, è una macchina completamente pazza, ecco, è una macchina assurda da guidare, è come se guidassi sulla ghiaia con una macchina senza gomme, solo sui cerchi, quindi sul ferro, è veramente difficile, le frenate qui bisogna rallentarle molto, no, allungarle, non rallentarle, qui hanno tirato giù il cono, ma va bene, ecco dove è il cono, questo cazzo di cono in mezzo alla pista, chi è che è stato a tirarlo giù, deve scendere e metterlo da parte, gentilmente, dategli la penalità, se la merita, se la merita, ha rotto la pista, ha rotto, a me me la date per qualsiasi cazzata, usciamo il KERS, comunque non c'è strategia adesso per il KERS, il KERS dobbiamo usarlo in uscita quando siamo lenti, quindi se quando siamo molto lenti, in una curva molto lenta, lo usiamo, ovviamente non dobbiamo stare a pensare al BRS, quindi è già un problema che ci tolgono, il bagnato non sempre porta con sé dei problemi, ovviamente la spettacolarità adesso sta tutto negli errori che i piloti possono fare sul bagnato, perché comunque sul bagnato l'errore è un attimo farlo, non è così semplice a guidare, qui bisogna dosare sempre, la macchina è molto, saltella molto, lì non so se ci sono dei dossini tipo, degli avvallamenti più o meno pronunciati dove si raccoglie l'acqua, lì si perde veramente aderenza, comunque curvare con questa macchina sto facendo una fatica assurda, speriamo che le gomme durino abbastanza per poter arrivare, qui usciamo il KERS per spingerci bene fuori, Webber ovviamente c'è una Red Bull che va tre volte nella nostra macchina, noi andiamo alla metà di loro, questa cazzo di curva qui mi dava problemi con l'asciutto, figuriamoci con il bagnato, le curve che mi davano più problemi sono quelle lì, la chicane che abbiamo appena fatto, la più lenta del circuito, è l'ultima che c'è dopo il traguardo, quelle sono le curve dove veramente soffro, lo so che piove, me ne sono accorto, non vedo un cazzo, figuriamoci se ci mettiamo dietro qualche altra macchina, quello che può succedere su questo coso, no, la macchina sta perdendo, ho cazzo, ho dovuto controsterzare, non so se avete visto dentro il riguadrino del mio volante come ho controsterzato per tenere la macchina in pista, però controsterzare poi rovina le gomme, si fa, è che si fa, però dobbiamo limitarci nel controsterzo, non siamo che il bloc, siamo un pilota di formula 1, no, siamo solo un pilota di formula 1, e no, vabbè, è un'altra cazzata, anche questa, suona sempre male, suona, comunque la pista è veramente ingestibile, uh cazzo, cioè non riesco a trasmettervi le sensazioni che il G27 riesce a darmi, però sento proprio la macchina come se fosse guidando veramente, eh, spendere tanto su un buon volante conviene, perché comunque è il minimo, va, per poter giocare bene in questi, in questi giochi, eh, non è che, è, è, cioè si può giocare anche con un volante con il driving GT della logic, che costa 150 euro, credo, però poi si sente la differenza con un G27, il G27 riproduce meglio le sensazioni, le sensazioni che una macchina vera può darti, quindi che una manoposto può darti, le riproduce sicuramente meglio, però, costa, costa, questo è vero, il G27 costa costicchia, dico costicchia, non perché non costa, ma perché rispetto ai suoi concorrenti quello che costa meno, eh, i concorrenti sono il volante della Thrustmaster, il, non mi viene bene, adesso mi metto il modello, il T500R, il T500RS, adesso il modello non mi viene bene in mente, eh, quello è un vero, un vero volante, un volante da sogno proprio, cazzo, sono qui, Weber è sempre dietro di noi, che ci tartassa, eh, quello è un volante che veramente dà delle ottime sensazioni, e costa sui 500 euro, quindi, rispetto al G27 costa un mondo, costa, e poi ci sono quelli da della Fanatec, che ovviamente, solo il volante costa 400 euro, solo il volante inizia pedaliera, eh, quindi costano veramente un mondo, però quelli della Fanatec sono, forse, insieme al Thrustmaster, sono i top di gamma, poi c'è il G27, ovviamente il G27 ha, dalla sua, il punto di forza, che ha un completo, un tutto insieme, che costa poco, ecco, eh, però, ovviamente il Thrustmaster, il Fanatec, solo per i professionisti, per me sarebbero pure sprecati, perché comunque non ho questa caratteristica di guida, con più un pirla che un pilota, ovviamente, frena, 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 ok, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo, benissimo, andiamo, ok, ci siamo, stiamo mantenendo per ora alla stessa posizione, però ho paura dell'usura delle gomme, visto che le sto stressando molto su questa pista bagnata, con queste frenate, con questi controsterzi, le gomme soffrono, dobbiamo adesso, per avviare un momento, controlliamo, controlliamo l'usura delle gomme, ok, il momento c'è, vediamo se riusciamo a, ok, eccoci, no, ho premuto una volta in più, l'usura già si sta presentando usura, quindi dobbiamo rientrare a cambiare queste gomme, oh cazzo, sono arrivato lungo, sono arrivato lungo, chiudiamo comunque, abbiamo chiuso la curva allo stesso, va bene così, non abbiamo più che, peccato, è veramente difficile stare in pista con queste condizioni, quindi qua mi andrebbe bene anche un ritiro, ci ho provato, ma io già faccio fatica con l'asciutto, figuriamoci col bagnato, ci sono piloti invece che col bagnato vanno veramente, veramente, veramente forte, sono piloti che quando fanno, quando piove, tirano fuori veramente il massimo, peraltro vorrei fare un'altra cosa, di fare un video, ditemi che ne pensate, un video sulla stagione Formula 1 2013, quindi i miei pensieri sul, su come è andata la stagione, su come si sono comportata i vari piloti, le varie macchine, ditemi un po' se vi interessa, magari un resoconto finale della stagione 2013, per prepararci poi a un prossimo video che farò a gennaio, febbraio, per spiegarvi le nuove regole tecniche che ci saranno in Formula 1 2014, tipo motori turbo e non più motori aspirati, finisce dopo 25 anni, 25, sì, circa 25 anni ritornano i motori turbo, un KERS, ci sarà un diverso KERS, un po' più potente, non più potente, sì, più potente, ci sarà anche un sistema diverso di recupero dell'energia, quindi ci saranno diversi problemi legati ai nuovi KERS, il TRS poi non dovrebbe cambiare, più di tanto, credo, qua dobbiamo frenare sempre per tempo, perché comunque le gomme si stanno usurando, qua dobbiamo usare un po' di KERS, vediamo un po', io sto dosando l'acceleratore perché ho paura, questa pista bagnata è una pista assurda, ovviamente secondo me ci passeranno e questa sesta posizione non riusciremo mai a mantenerla fino alla fine, cioè sono un pazzo se credo di poter mantenere questa posizione, vorrei, sarei interessato a sapere dove è Vergne, mi piacerebbe sapere dove è Vergne in questo momento, perché magari gli lancio qualche bomba, cioè lancio i chioli sulla strada e poi lui se li prende nelle ruote e se la prende anche nel culo, eh lo so che sta cercando di raggiungermi, sta cercando di passarmi devi dire, io sto facendo ovviamente la mia tattica qui è fare da tappo, sto cazzo di birillo, ovviamente sento la macchina adesso che ha le gomme usurate più leggera, più meno attaccata al suolo, ho quell'effetto di testa coda in ogni curva, infatti non so se avete notato ma sto facendo veramente male tutte le curve, non mi sta uscendo bene una curva, perché ho quell'effetto di testa coda sempre, sento la macchina che parte per l'interno, tende a chiudere troppo la curva e ovviamente quello è l'effetto testa coda che è una macchina con le gomme usurate ha, comunque sono quelle dietro che sono più usurate, quindi abbiamo una prezza anche di trazione, in uscita dalle curve non spingiamo più tanto bene, oh merda, dovevo forse dosare meglio l'usura delle gomme, ovviamente se adesso mettiamo le altre ci faremo gli stessi numeri di giri, quindi abbiamo un grosso problema, cioè le altre non sono più dure, le gomme da bagnato sono uguali, gomme da bagnato uno e gomme da bagnato l'altro, mescono uguale, quindi, boh, non lo so, la mezzo dura questa gara, questa gara non ci voleva adesso, anche perché in questa gara decideranno il pilota, il primo, il cambio di pilota tra prima e seconda guida, e se divento prima guida io, metto uno sviluppo della macchina super potente, non facciamoci superare, manteniamoci qui davanti anche per il prossimo giro, poi dobbiamo rientrare box ovviamente, andiamo a cambiare queste gomme, vediamo gli altri cosa fanno, secondo me rientrano, rientreranno dietro di noi, quindi speriamo di non avere intoppi ai box, guarda qui la macchina come accelera se ne va, oh là là, è troppo difficile, sì sì, aspettate, mi arrivo, non facciamoci sopassare in questo ultimo giro, prima della sosta ai box e poi vediamo un po' come si sistemano loro, ecco, come mi mettono fuori in pista, perché comunque anche colpa dei meccanici mi tanto se fette la posizione, quel cazzo di birillino lì, oh, mi dà un fastidio, qui la macchina tende sempre in testa, no, tende sempre ad andare in testa coda, merda com'è difficile fare un live, qualcuno di voi ci lamenta dei miei commentari, cazzo, provateci voi a guidare, a fare bene, a cercare di fare bene, perché comunque non faccio mai molto bene, è a parlare, cioè una cosa è guardare una gara e commentarla, come fanno tipo su Rai1, su Sky, i commentatori, quella è una cosa che o sei portato o non sei portato, però la fai, non è, fai solo quella, una cosa poi è guidare e parlare, io voglio parlare, cioè non voglio lasciare punti molti dentro al video, secondo me un buon commento vale più di una buona gara, lo dico sempre, divertitevi nei video, non state lì a menarvela, posizione o non posizione, l'importante è divertirsi, se un gioco mi fa divertire, è un buon gioco, cioè a prescindere dalla console, dal pc, se un gioco mi fa divertire, quello è un buon gioco, non importa la grafica, il numero di giocatori massimo, usciranno dei video speciali, peraltro poi vi farò vedere, su una console vecchia, con un gioco vecchio, e ci siamo divertiti eh, cazzo c'è sul passato, usciamo tutto sto cast, si si arrivo, non so neanche come cazzo si entra, qui abbiamo usato tutto il cast, va bene, eh grazie, è tutto verito mio eh, ok, dai, ovviamente adesso ci sorpassano tutti, ci sorpassano, eh, settimo, ottavo, passa in questo momento un elio se non sbaglio, non lo segna, però dovrebbe essere passato un elio, lui è il puntino arancione, ok, gomme identiche a quelle di prima, dovremmo farci otto giri uguale, quindi dovrebbero, dovrebbero durare, la macchina adesso è più scarica, quindi eh dai, gira, come cazzo mi hai fatto rientrare, pezzo di merda, ok, eh, dicevo, la macchina adesso è più scarica, quindi dovrebbe usurare meno le gomme, io spero sia così, cioè, mi piacerebbe che fosse così, mi piacerebbe avessero implementato questa, questa caratteristica, comunque le gomme, le gomme sentono il peso della macchina, quindi la macchina più carica, oh cazzo, una macchina più carica ovviamente è una macchina che usure di più le gomme, quindi non so se qui in Formula 1 2013 non mi sono mai, non ho mai capito se questa cosa è vera o meno, perché comunque dovreste avere sempre lo stesso stile di guida, eh, per riuscire ad accorgerti di questa differenza, però, secondo me non l'hanno implementato, perché comunque è una, eh, una, boh, una caratteristica molto importante, secondo me da incrementare, e qui non l'hanno messa, perché le gomme durano sempre più o meno uguali, non è solo un giro in più con le gomme con macchina scarica, cioè dovrei fare 6 giri con le gomme iniziali e poi 10 con quelle altre, no, sono 15, quindi 9 con le altre, perché comunque la macchina consuma benzina e consuma tanta benzina, eh, non pensate sia poco, eh, sono tanti chili la macchina, le macchine della Formula 1 consumano un sacco di benzina, non sono proprio delle macchine economiche, comunque questa è una delle piste più difficili al momento che ho fatto in questo Formula 1 2013 con quest'acqua, è questa pista così bagnata che fa veramente paura, ecco, è una pista dove le macchine qui veramente sentono un grosso problema, ce la sentono l'acqua qui le macchine, ovviamente non abbiamo il DRS, questo sarebbe un punto DRS, dai, sorpassiamo Verde che è lui l'importante sorpassarlo, un cazzo, buttiamoci dietro Perez, chiudiamogli la traiettoria, chiudiamogli la traiettoria, forse ce l'abbiamo fatta, forse abbiamo recuperato, abbiamo fatto un sorpasso impiedibile, in quella curva l'accelo buttato all'interno e l'abbiamo spinto fuori, quindi lui è dovuto lasciare l'acceleratore, ma proviamo a mantenere questa stessa posizione, perché sono tantissimi punti, ovviamente sono tantissimi punti, possiamo fare bene, possiamo sperare in una nuova macchina, quindi una macchina più competitiva, una Lotus magari, le Lotus sono andate molto bene, non so se è stato merito di Raikkonen, che comunque le ultime due gare non le ha fatte, non so se avete seguito la Formula 1 reale, comunque le ultime due gare Raikkonen non le ha fatte per problemi di soldi, non l'hanno pagato, anche in Formula 1, cioè adesso non pagano i piloti, oh cazzo, oh cazzo, non dovevo uscire così forte, non dovevo salire sul cordolo, sul cordolo devo mollare assolutamente l'acceleratore, perché qui sono da pazzi, sono tutti dietro di me, Perez è uno di quei piloti messicani che ha gli sponsor, è uno di quei piloti che purtroppo è bravo, non dico mica di no, ha fatto molto bene per essere la sua stagione esorti se non sbaglio, oh cazzo, mi ha preso la scia, mi ha preso la scia, mi ha preso la scia, ci sono problemi, ci sono problemi, uh forziamo la staccata, forziamo la staccata però non dobbiamo mica forzarle sempre, le gomme devono arrivare fino alla fine adesso eh, comunque mi sta facendo stancare staccare, è molto difficile restare dritti, qua bisogna accelerare solo quando la macchina è quasi dritta, però guarda massa, guarda massa, guarda quel lato, tagliamo di la strada, mettiamoci al centro, perfetto, abbiamo rotto la traiettoria, comunque si può fare una volta sola, si può, si può cambiare traiettoria, quindi non è una mossa scorretta, da regolamento il pilota può cambiare, ostacolare il pilota che lo segue, eh, cambiando traiettoria una sola volta, quindi si può fare, eh, una sola volta ovviamente, ripeto, una sola volta, non si può fare a zig zag, quello è da penalizzare, infatti come sei di gara, di solito penalizzano quelle manovre, un po' così, eh no, non devo fare attenzione, sono contento che limita il consumo di carburante, a meno potenza, ah, dobbiamo controllare il nostro, eh, tanto ormai della usura non ce ne frega più un cazzo, controlliamo il nostro, dobbiamo fare altri 5 giri, qua è, è davvero, davvero dura, la vedo, dobbiamo tenerci il Kers per la fine, perché comunque loro ci sorpassano sempre nel terzo settore, o provano ad avvicinarsi nel terzo settore, noi nel settore 1 e 2 andiamo benino, nel terzo poi si avvicinano tantissimo, con quei lunghi rettilini dove la nostra macchina ovviamente perde velocità, visto il grosso carico che io ho infilato su, ma l'ho fatto perché comunque era un'incognita, qui l'assetto era veramente un'incognita, non ho mai provato la macchina sul bagnato, non ha mai piovuto così tanto da farmi provare l'assetto, qui abbiamo, ci siamo arrivati abbastanza veloce, comunque basta ci sorpassa e va bene, ma fa culo, mi è venuto addosso, come disse Sasha Gray in un film, mi è venuto addosso, lasciamo stare, ovviamente dobbiamo, dobbiamo un po' porre limiti al problema della velocità di punto della nostra macchina, la nostra macchina non ha la velocità di punto elevata, visto il grosso carico e dinamico che io ho messo su, ma intanto come potremmo fare a fare sto cazzo di assetto al venerdì al sabato, al venerdì ovviamente, perché la pista era completamente asciutta, la macchina al venerdì necessitava un po' più di velocità, lo dico già da adesso, lo sapevo, però poi non me la sono sentita di metri di più velocità, poi alla domenica piove e non avevo aderenza, meglio tenere l'aderenza buona, un po' meno velocità, che quella poi la recuperiamo con qualche mossa scorretta, qui ovviamente ho fatto una cappella che mi ha fatto perdere completamente la concentrazione, si sono avvicinati, erano 8 decimi e adesso sono attaccati al culo, meno male che non c'è il TRS, altrimenti sarebbe un casino vero, è stato un weekend di gara molto difficile, un weekend, una gara molto difficile mi ha fatto veramente sudare, perché comunque, ah, difficile per le condizioni meteo, non tanto per il circuito, magari il circuito se fosse stato tutto asciutto avrei trovato un buon assetto, però qui è stato veramente difficile riuscire ad arrivare alla fine con queste condizioni, qui dobbiamo usare un po' di Kers per non farci superare, qui mettiamo la macchina e facciamola correre, non sto dosando un po' l'acceleratore ma conta ben poco, conta, quarta, quinta, usiamo un po' di Kers per arrivare in sesta, non facciamoci superare, stiamo al centro, ovviamente chiudiamo la porta per il sorpasso, noi dobbiamo adesso difenderci veramente con le unghie, comunque la sesta posizione sarebbe una posizione di lusso, una sesta posizione in condizioni bagnate, peraltro, quindi in condizioni difficili, però la vedo dura, la vedo dura, queste condizioni qua non mi favoriscono molto, è molto difficile riuscire a un carburante ottimale, bene, a tre giri dalla fine abbiamo il carburante ottimale, primo sorpasso, ovviamente ci sorpasseranno, ci sorpasseranno ovviamente, lo so, Weber c'ha una Red Bull, ha la Red Bull di Vettel, vabbè che Vettel è sesto, non è quinto, non è molto lontano, però una Red Bull va sicuramente meglio di una Toro Rosso, nonostante anche la Toro Rosso abbia lo sponsor Red Bull, però, sono diversi, diverso tutto, mi sembra che la Toro Rosso abbia i motori della Ferrari, mentre la Red Bull ha i motori della Renault, dobbiamo stare attenti al carburante, perché anche questa volta il carburante si è finito, non capisco come cazzo sia possibile che il carburante sia sempre ottimale, cioè non uso mai la miscela elevata eppure il carburante non arriva, avete visto anche voi, non ho usato mica la miscela elevata in questa gara, eppure non arriva, in Formula 1 2012 ci facevo anche 5 giri, facevo i primi due in partenza, ne facevo due dopo il cambio gomme con la miscela elevata e il carburante ce n'era, qui invece niente, non c'è niente da fare, secondo me è un bambino, non è possibile non usare mai la miscela elevata, loro la usano, nella realtà la usano, ok spingiamo col Kers, spingiamo col Kers, ok ci siamo, teniamoci a sinistra, perché comunque dobbiamo chiudergli la porta, non dobbiamo lasciarci sorpassare, e come dicevo prima il terzo settore è lì che si avvicinano loro per il sorpasso, adesso ci teniamo un po' di Kers per il traguardo, però è lì che loro si avvicinano per sorpassarli, quindi dobbiamo stare veramente attenti, dobbiamo stare attenti alla benzina, ai sorpassi e alle gomme, non dimentichiamoci le gomme, però le gomme dovrebbero farcela, se ce l'hanno fatta prima ce la faranno anche adesso, stiamo facendo una gara veramente a tattica, una strategia di gara veramente ottima, quella di fare un trenino dietro di noi, se ci sorpassa uno ci sorpasseranno in dieci, però è obbligatorio fare così, adesso è obbligatorio mantenere questa posizione, non posso poi impicare a combattere con Verne, che Venni è una posizione dietro di me, figlio di puttana, si è messa a spingere qui, guarda Weber che mi vuole sorpassare, ma noi lo impediamo, impediamo il sorpasso proprio, adesso voglio recuperare questa sesta, voglio proprio portarla a casa, a sesta posizione, questo è il terzo ultimo giro, quindi dovremmo riuscire a Perez adesso dietro di noi pure, merda, sono tutti là eh, sono arrivato lungo, sono arrivato lungo, sono arrivato lungo, no ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, qui bisognava usare i cordoli, sull'asciutto, sul bagnato, lasciateli stare i cordoli, lasciateli proprio, stateli lontano un metro dai cordoli, minimo un metro, perché comunque i cordoli sono qualcosa di viscido, cioè i piloti sentono l'acqua non dalla strada, dall'asfalto, ma dai cordoli, loro capiscono quando è il momento di smettere di correre, proprio dai cordoli, i cordoli sono i primi che diventano viscidi, stiamo a sinistra, non facciamoci sorpassare, blocchiamo ogni tentativo di sorpasso, ovviamente poi rientriamo in traiettoria, si può fare così, non possiamo stare mica sempre a sinistra, ok, inizia adesso, dopo questa curva inizierà il penultimo giro, quindi inizierà il penultimo giro, dovremmo spero di farcela, ecco, speriamo, loro in questo momento sono un po' lontani, forse hanno avuto qualche piccolo intoppo, si sono forse ostacolati in vicenda, io comunque non posso mica fare tutte le gare così in difesa, perché è veramente difficile, diventa veramente stancante fare tutte le gare così in difesa, però sono punti importantissimi, sono punti, sono pochi, ma sono importantissimi, perché Verne non credo poi, noi ne abbiamo già uno in più di Verne, Verne non aveva punti, io spero che lui adesso muoia, in questo momento, perché comunque mi servono questi punti per rimanere almeno davanti a lui in classifica mondiale, almeno quello lo voglio, magari non avrò i giri veloci, non avrò i podi, non avrò le qualifiche migliori, ma cazzo voglio tutti i punti li voglio io, qua lo sento del Kers non dovevo usarlo, ho sbagliato, me lo devo ottenere per la fine, soprattutto in questi ultimi giri, è importante arrivare sul traguardo davanti, non a metà pista, metà pista non gliene frega un cazzo di nessuno, è il traguardo quello che conta, quindi dobbiamo migliorare assolutamente, dobbiamo ricordarci di non usare il Kers, vediamo un po' quello che succede, io ho paura della benzina, quella è la mia paura più grande, cazzo qui ho sbagliato, ho sbagliato, ho sbagliato, primo errore della gara, primo grosso errore, tranne quello in partenza fuori ovviamente, usciamo il Kers qua, usciamo il Kers, spingiamoci in sesta, non facciamogli sorpassare, abbiamo pochissimo Kers per il traguardo poi, freniamo, freniamo, oh cazzo, oh cazzo, oh cazzo, oh cazzo, non ce la posso fare, sto soffrendo, in questo momento c'è la tensione altissima, ho una tensione di guida adesso, cazzo, ho un gioco così che rimette questa tensione, non si può mica morire per un gioco, Weber, Weber dietro di noi, dobbiamo assolutamente spingere 59 secondi dietro a Hamilton in questo momento, abbiamo veramente fatto una coda, un trenino allucinante, l'ultimo giro, manteniamoci tutto il Kers per l'ultimo settore, ricordiamoci di non usarlo, ovviamente anche le gomme incominciano a sentire l'usura, le gomme slittano parecchio, spero che anche loro abbiano qualche problema di gomma, di gomma, sì, di pneumatici, sono più gomme, non ne hanno solo una, comunque se gli si potesse bucare una gomma sarebbe il massimo, eh, cazzo sono proprio, faccio fatica a guidare, faccio fatica ad arrivare, Nico Rosberg vince, ovviamente mi sa che Nico Rosberg è anche lui un tedesco, quindi usa bene questo circuito, e gli italiani vanno bene sul circuito italiano, i brasiliani sul periodo brasiliano, e ovviamente i tedeschi vanno bene sul circuito della Germania, della tedeschia, oh merda, sto spingendo un po', voglio assolutamente arrivare in questa sesta posizione, non è il podio, ma per me è un podio, il carburante già lampeggia, sto video della mignotta, lampeggia sempre, però è ottimale, dai, non facciamoci sorpassare, chiudiamo tutte le porte che possiamo lasciare aperte, cazzo, ho sbagliato come prima, si sono allungate le frenate, sto facendo fatica a mantenere la macchina in pista, le frenate si sono allungate a dismisura, dobbiamo usare tutto il cast e poterci vedere la benzina, questo, ho lavato una spaca questa volta, perché comunque siamo già in settima, in settima mettiamo un carburante in scena bassa, per questo ultimo pezzettino di gara, perché non voglio arrivare con i fumi del carburante, no, ho cazzo, ho sbagliato, ho sbagliato, dai, ti prego, arriviamo, arriviamo davanti, arriviamo davanti perché voglio assolutamente vincere, ti sbatto fuori se mi sorpassi l'ultima curva, stai tranquillo che ti sbatto fuori, ti sbatto fuori, non diamogli la possibilità di passarci, oh vai cazzo, vai, ci voleva questa gara, sesto, vai, Jean-Éric decimo, figlio della mignotte, ha preso pure punti, ho la bocca completamente asciutta, non lo so, sono arrivato lì, sono arrivato sesto, sono contentissimo, vai, abbiamo preso 12 punti se non sbaglio, quindi siamo saliti anche in tredicesima posizione, non 13, abbiamo preso 6, no, 8, 8 punti, abbiamo 9 punti in classifica mondiale, mentre Verne ne ha solo uno, grande, grandissimo, Lewis Hamilton primo, strano, vabbè, prosegui, vediamo cosa dicono i meccanici, è stata una gara difficile, grande, eh, cazzo, wow, buon lavoro per il mito 125, ok, primo posto da farlo per Nicolò Sperch, vabbè, queste cose già la sapevamo, ah, prendiamo anche dei punti, vero, uh, siamo passati al quarto livello, 4 e mezzo, dai, ci siamo, eh, vediamo cosa mi dicono, siamo sempre seconda guida, merda, no, vai all'email, cazzo, eh, Budapest è il prossimo, il prossimo, la prossima gara sarà Budapest, quindi, Ungheria, un gara ring, sfida con panni, noi siamo dietro, però noi abbiamo più punti, eh, abbiamo nove punti il campionato, non è male, eh, Leonard, Leonard Hobson, date di gara non me ne fare niente, eh, vabbè, eh, ci hanno lasciato seconda guida, eh, ma abbiamo fatto meglio, quindi, eh, niente, fatemi sapere se vi è piaciuta questa gara, ci vediamo con la prossima gara, un po' in dubbio adesso quante gare usciranno, visto che c'è il periodo andalizio, eh, vediamo un po' quello che posso fare e ci vediamo con la prossima gara, ciao!